Io e Federico ci siamo ritrovati virtualmente sui balconi durante il lockdown e quindi in qualche modo ci siamo riviste, abbiamo risuonato assieme anche poi per l'iniziativa musica che unisce e quindi abbiamo deciso di tornare a collaborare ma senza per forza andare a Sanremo, soltanto per fare musica assieme di nuovo. Esatto, inizialmente è partita con facciamo una canzone e quando l'abbiamo finita abbiamo detto ma proviamo questa esperienza che per me è del tutto nuova e per Francesca è la seconda volta. È stato un momento anche per esorcizzare la noia dettata dal periodo che stiamo vivendo, è stata una bella boccata d'ossigeno e quindi testo dopo testo, prova dopo prova abbiamo avuto il pezzo finito, completo e ci siamo detti ma... proviamo realmente ad andare a fare questa avventura.